ragazzi buongiorno 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 parliamo di ryzen questo video lo sto registrando il 7 ottobre e lo vedrete il 7 ottobre lo vedrete oggi 7 ottobre perché domani è l'8 ottobre e c'è la presentazione dei nuovi ryzen in questo video facciamo un po' il punto della situazione per capire che cosa aspettarci dai nuovi processori di amd intanto sono dei geni architettura nuova zen 3 ma i processori sono di generazione 4 quindi architettura zen 3 gen 4 ma non si chiameranno ryzen 4000 si chiameranno ovviamente ryzen 5000 quindi grandissimo è tutto molto chiaro in in amd in realtà ci sono dei motivi per cui siamo all'architettura zen 3 siamo alla generazione 4 però dal punto di vista di un consumatore che magari non è tanto ferrato come possiamo esserlo noi zen 3 gen 4 ryzen 5000 ecco potrebbe non capire tanto bene però a parte questa cosa i nuovi processori sembrano tanto ma tanto interessanti in questo video farò riferimento al sito cpu monkey che vi lascio intanto qua sotto in descrizione e ha mostrato quelle che dovrebbero essere le caratteristiche e le frequenze dei nuovi ryzen che risultano vi dico la verità molto ma molto interessanti non si sa ancora quale sarà il prezzo e soprattutto quale sarà in italia perché magari il prezzo di presentazione che farà amd sarà diverso da quello che avremmo noi in italia per questioni di iva tasse di importazione tutte robe del genere però comunque io mi aspetto da questa nuova generazione dei prezzi che non si andranno a discostare molto da quelli che potevano essere i prezzi della generazione passata però i nuovi ryzen 5000 sembrano veramente tanto potenti perché perché adesso nella classifica di cpu monkey in testa ci sono solo i nuovi ryzen che battono anche i nuovi processori intel di undicesima generazione quindi gli intel tiger lake troviamo ryzen in testa sia per quanto riguarda le prestazioni single core che in multi core e questa è una cosa molto importante perché i processori intel sono sempre stati gli dei delle prestazioni in single core in questo caso pare che gli amd anche in single core corrano molto bene ma adesso vi do anche qualche dato perché io mi sono riportato alcuni dei processori che secondo me saranno i più interessanti che ovviamente saranno ryzen 9 5900 x che sarà un po il top di gamma di questa nuova serie che partirà da un clock base di 3,8 gigahertz per salire a 4,8 in boost per quanto riguarda il single core e a 4,4 gigahertz in multi core quindi molto molto buono sarà un processore 12 core con tutta probabilità poi si passa al ryzen 7 5800 x che parte da una base di 4 gigahertz arriva a 4,8 in single core e a 4,4 in multi core e questo è un processore a 8 core mentre questo molto molto interessante il ryzen 5 5600 x che andrà ovviamente a sostituire l'attuale ryzen 5 3600 x 4 gigahertz di base che rispetto al 3600 x saliamo perché era a 3,8 la base del 3600 x abbiamo sempre 6 core in boost raggiungiamo i 4,6 gigahertz contro i 4,4 del 3600 x della scorsa generazione e in multi core ci fermiamo a quota 4,4 gigahertz o almeno dovremmo fermarci a quota 4,4 ovviamente qua si parla di frequenze che sono gestite in automatico ok quindi se voi volete fare poi un overclock più spinto lo fate da bios modificate i parametri potete andare anche più su a patto ovviamente di avere un dissipatore che riesca a reggere le nuove frequenze però insomma potete farlo vi dico che cosa spero io io spero di vedere queste potenze ad un prezzo simile a quello precedente perché se effettivamente sarà così e non si andranno a discostare troppo dai prezzi dai prezzi della generazione attuale Intel non sarà messa troppo bene perché AMD inizierà veramente a pressare Intel e Intel dovrà rispondere di conseguenza quando due case si fanno concorrenza i prezzi si abbassano e le prestazioni salgono quindi mi fa molto piacere e sicuramente farà molto piacere anche a voi soprattutto a chi si deve fare un computer piccola nota riguardo ai dissipatori perché magari qualcuno di voi si sta chiedendo ma se cambio processore poi devo anche cambiare dissipatore è compatibile, non è compatibile è molto semplice se il vostro dissipatore ha la compatibilità cioè può essere installato su socket AM4 è perfettamente compatibile perché con il passaggio dai Ryzen 3000 ai Ryzen 5000 si fa strano perché non ci sono i Ryzen 4000 probabilmente i Ryzen 4000 resteranno questa nomenclatura sarà utilizzata per i Ryzen Mobile quindi per i processori non desktop ma magari per i portatili però basati su architettura Zen 2 non Zen 3, quella nuova ecco se il vostro dissipatore è compatibile con il socket AM4 non c'è nessun problema perché appunto il socket AM4 è già utilizzato dagli altri processori AMD verrà utilizzato lo stesso socket anche con questi nuovi Ryzen quindi a livello proprio di installazione non cambia assolutamente nulla quindi attendiamo i nuovi Ryzen 5000 ma attendiamo ancora di più le nuove schede video AMD le RX 6000 per decidere e so che molti di voi sono indecisi se acquistare una nuova RX 6000 appunto o un RTX 3000 di Nvidia ah un'altra cosa la 3070 non so se avete visto è stata rimandata è stata rimandata a fine ottobre dovrebbe essere il 29 di ottobre se non ricordo male hanno fatto bene penso abbiano fatto bene soprattutto perché la 3080 e la 3090 sono andate sold out nel giro di 2,5 millisecondi quindi possiamo far uscire una scheda video che non va sold out dopo un giorno se posticipare la data di uscita vuol dire rendere cioè produrre più schede facendo sì che nel momento dell'uscita abbiamo più schede disponibili per il mercato ecco molto bene direi in questo modo comunque andiamo anche cioè l'uscita della 3070 è stata posticipata e praticamente la 3070 diventa disponibile dopo la presentazione delle RX 6000 ma tanto che me frega a me io sto qua con la mia 970 che da 4 anni funziona e funziona bene ha un bel po' di coil wine perché sembra un trattore soprattutto quando giocate veramente un trattore penso faccia meno rumore però ancora funziona quindi io finché va e finché non sento la necessità di cambiare scheda video anche perché sto giocando in full hd la tengo quando esplode esplode mi prenderò molto probabilmente molto probabilmente niente perché non lo so però le nuove RTX devo dire che mi piacciono tanto mi piacciono tanto sono però molto curioso sulla nuova uscita di AMD perché AMD da un po' di tempo già con la scorsa generazione perché anche le RX 5000 andavano veramente bene andavano e vanno veramente bene e hanno un prezzo super conveniente perché attualmente una RX 5700 XT che la possiamo paragonare a una 2070 2070 Super più o meno gli fps sono lì dipende anche in base al gioco perché in certi giochi si comporta meglio Nvidia mentre in altri AMD però una 5700 XT 400 420 euro ve la portate a casa una 2070 Super vi partono i vostri 500 euro e anche di più quindi a livello di qualità prezzo AMD attualmente è imbattibile cioè sia i processori che le schede video hanno il miglior rapporto qualità prezzo che potete trovare io spero lo sia anche per la nuova generazione di AMD sia di processori che di schede video perché è giusto che ci sia un secondo competitor all'altezza appunto come vi ho già detto prima se due case si fanno concorrenza le prestazioni migliorano e i prezzi si abbassano quindi va molto ma molto bene signori vi ringrazio per aver seguito questo video arriverà con tutta probabilità un altro video dopo la presentazione dei nuovi processori Ryzen per vedere chiaramente che cosa sarà presentato quali saranno le velocità effettive quali saranno i prezzi soprattutto molto importanti e quindi vi rimando al prossimo video che farò su questi nuovi processori AMD io vi ringrazio per avermi seguito come al solito vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i miei link a tutte le mie pagine social quindi pagina Instagram pagina Facebook e il link d'invito al gruppo Telegram ufficiale di Hardware Insider qui sotto trovate anche i link per l'acquisto di Windows 10 oppure Microsoft Office o Karspersky nel caso dovesse aver bisogno di un antivirus da Mr. Keyshop che vi ricordo è in collaborazione con Hardware Insider e inserendo il codice Hardware Insider 10 avrete il 10% di sconto se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace ed iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non volete perdervi i prossimi video vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti